buongiorno adesso di di obiettivo news oggi 11 febbraio e santa beata vergine di lourdes oggi ricorre anche la trentunesima giornata mondiale del malato la giornata mondiale del malato una ricorrenza della chiesa cattolica che ogni anno celebra i malati di tutto il mondo si tratta di un giorno in cui vengono diffusi ancora di più messaggi di speranza e amore nei confronti di tutte le persone che stanno vivendo un momento delicato e non sono in salute giovanni paolo ii la istitui quando li venne diagnosticato al parkinson scrisse un tema sulla sofferenza e su quanto parlarne sia significativo scelse l'11 febbraio in onore della memoria liturgica della madonna di lourdes a quanto pare molti pellegrini visitatori di lourdes sarebbero guariti proprio grazie alla vergine la ricorrenza ha un significato preciso prendersi cura dell'altro con tenerezza e delicatezza aiutare chi ne ha bisogno soprattutto quando si ha più bisogno e nessuno ascolta i propri problemi il tutto sempre con descrizione